Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi su Epic Games ovviamente è un remake del vecchio video tutorial su come risolvere il problema di Epic Games che non si avvia quindi in questo caso faremo vari procedimenti su come risolvere questo problema e togliere di mezzo questi ostacoli che non ci permettono di avviare Epic Games quindi in questo caso iniziamo prima ad andare su servizi andiamo sui servizi scendiamo fino a giù fino a trovare il servizio vediamo di Epic Games che se lo trovo eccolo qua è Epic Online Service ci clicchi due volte sopra vai sul tipo di avvio automatico e poi fai stato del servizio facciamo avvia una volta fatto facciamo applica in questo caso anche l'antivirus può ostacolare l'avvio di Epic Games quindi in questo caso andiamo su Windows Defender Firewall andiamo su impostazioni avanzate su azione proprietà e da qui potete disabilitare il vostro antivirus da attivato mettete disattivato su tutti i profili profilo di dominio, privato, pubblico e altre impostazioni e fate applica una volta fatto andiamo su Epic Games quindi un attimo che eccolo Epic Games eccolo qua chiudo Epic Games andiamo sulla proprietà del launcher andiamo su compatibilità qui modalità compatibilità se in questo caso esce tipo un errore che non avete i requisiti di sistema per aprire questo Epic Games andate su questa modalità potete mettere Windows 7 Windows 8 e altri Windows io lo tolgo perché a me Epic Games va quindi su Epic Games mettete anche la spunta esegui questo programma come amministratore disabilita ottimizzazione schermo intero e fate applica e chiudete una volta fatto andiamo su esegui scrivete % up data % fate ok scendiamo fino a giù fino a trovare se si trova qua la cartella di Epic Games e eccolo qua Epic Games 32 MB questo invece è il launcher queste sono tutte le cache tutte le cose che non ci servono quindi in questo caso fai CTRL A e cancelli queste cose e svuoti il cestino lo stesso vale per Epic Online Service come abbiamo visto sui servizi la cartella di Epic Online Service se ci sono altre cache in queste cartelle cioè in questa cartella qua potete cancellarla cancellate svuotate il cestino svuotate il cestino non ci sono altre cache qui invece save save che cosa ha qua altre cache se ci sono altre cache nelle cartelle di Epic Games cancellatele e una volta fatto avviate Epic Games come amministratore Epic Games si è avviato senza problemi ho la libreria il negozio e le solite cose quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao